musica 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 dai sticcio ciao ho sputtato un attimo a sedermi oh dai scusami non ci entriamo ci entriamo più o meno scusa ma si mette un po' più vicino non so meglio così da notare io da a notare che io ci scrivo comunque ciao a tutti ragazzi un po' del mio canale io sono Shanna Cato sticcio io sono Shanna Cato e e lei Carmela musica 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 ok oggi andiamo a fare una nuova challenge ma cazzo si chiama? aspetta per me ricordare cioè manca come si chiama è una nuova challenge quindi dovete vedere come si chiama adesso sul titolo ci sarà scritto per adesso devo ricordarmi come si chiama speed drawing speed drawing challenge bravi sarete allora che noi dobbiamo disegnare un soggetto un soggetto ci mettiamo un soggetto con noi capito? ma se si chiama il cuore è la cosa più facile eh vabbè dopo stanno andando super difficile vabbè dovete fare disegnare per tre volte lo stesso soggetto però la prima volta bisogna disegnarlo in 10 minuti la seconda volta in 10 secondi e non lo so certo no no in un minuto e la stessa volta in 10 secondi ok bene penso avete capito la challenge qua ogni tanto la luce se ne vaffanculo se ne vaffanculo comunque un figlio per te io non so disegnare è una cretina perché io so disegnare ma c'entra c'è la mia vita in un mese si è che c'è io ho il penerale no ma ti se poi sbagli vabbè vabbè allora ecco allora adesso il soggetto vediamo se vuoi la mia vita o quello che vuoi tu il soggetto vediamo un po' decido prima devo fare non te no ho fatto fatto farci facciamo a fare vista anche voi tu eh così io ti dico un soggetto mi devi disegnare tipo disegni e poi dovevo mettere tutte vabbè eh è stato fatto fobici sasso carta forbici e ti volevo haha ok decido io saresti di begnare aspetta mondo luce non mi piace mondo luce però palle si è così io non mi vedo mondo luce stavate va un paio benissimo segni a me posso no 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 solo la faccia per i capelli dai Non so fare Come lo sai fare tu? Noi 10 minuti ti riconto vai Questa la faccio Dai vai tranquilla Allora 10 minuti quindi 10 minuti E no 19 vai Se è quello del primo sugo di gatti Ah e poi Non ho detto una cosa perché che fa il disegno più brutto Ma anche io Se lo faccio dei disegni più brutti Due sono brutti per dire che se due sono brutti Volevo bere uno scettino di alcol Se un'altra più bella è l'altro Ma la faccio Ma la faccio questa a casa mia E' bellissima Guardate Se me c'ho le codine E' sto di sempre In 10 minuti anche se in modo Cioè questo li potresti Vai adesso è ancora uguale In un minuto In un minuto? Lo dico io Andiamo a dare un minuto Aspetta Ok vai Io poi non lo so guardare Ah stia voglia E' scelto più bello E' scelto più bello E' scelto più bello Ti vede quanto è un cazzo Mi sembra che porco Ti vede o no Non si vede Non si vede Ah si 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 vede ok Noi sono scemo Incola 10 secondi Ok vai 10 secondi 10 secondi 10 secondi 10 secondi 10 secondi 3 2 1 E' bellissimo Lo trovate Uno può mettere l'altro Guarda che a me Dimmi tu un soggetto Che devo disegnare Ma fai a me Ecco Lo sapevo Ok Aspetta Deve contare 12 minuti Deve contare 12 minuti Allora Grazie a me Il timer Il timer Deve stare all'orologio 10 minuti 10 minuti Ma Vai Vai Tutto il tempo Adesso Mi temo Ti faccio gli occhi da anime Va bene guardate come è carina però ti fai il timer di un minuto oddio santo vai dimmi tu quando devo andare vai quando manca te dammi i secondi 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 e che carina pure com'è piace ok adesso 10 secondi 9 8 7 6 5 4 3 2 1 fatti merda ma di secondo è impossibile ragazzi secondo voi che è riuscito bene votatene sotto nei commenti rispetti sei così la cia no 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 sai cosa devi fare no no adesso devi berti il nasciutino che era bello cazzo davano i bicchieri E' un asciattino Il nostro amico alcolino Lo facciamo vedere però Ok Perché a me adesso Decidere cosa vuoi dire Allora Un cane Un cane Che animali ci devono stare Aspetta un attimo Sì abbiamo ormai fatto Un gatto fatto Io il cane ti farò malissimo Sento brava Facciami un minuto Aspetta Un corpo lunghissimo E' cos'è? E' quello è il padre Ok aspetta 10 secondi Com'è 10 secondi qua? Sì Ok Vai comunque è difficilissimo Dammi 2 3 9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 3 3 4 3 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 9 9 9 10 10 10 9 10 10 12 12 17 20 18 20 è un link ho messo oddio vai guardami i miei secondi 50 50 50 50 50 è proprio disegnato abbiamo oddio nei secondi allora 9 8 7 aiuto 6 5 3 2 1 mi interruttano ma che mo ho perso di sicuro guarda che cazzo è alla fine ho fatto schifoso io si vieni qua bella dai si ma doveva fare un altro non ne possiamo fare dove li cancelliamo qua facciamo più piccoli magari più piccolo che mi esce qua qua di lato ok ok tocca a te tocca a me tocca a me dai facciamo ma stella è facile il cuore è facile se lo facciamo pari lo stesso vabbè vabbè abbo di natale aspetta a me aspetta a me aspetta a me metti il periodometro vai cinque 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 belle quante palline tTH mix che pazza a me che faccio un magello e' un po' storto Com'è l'altro lì, vedete? Vedete la mancina Ok Ora un minuto Un po' c'è il memoria, aiuto Uno, uno, uno Ok Sembra quando mi riempiono una persona Un po' è difficile Aspetta Ricondi Ecco due Vai, vai 9, 8, 7, 6 5 E cos'è quella cosa? Non so bene raga, ma è bellissima Ok, aspetta a me La bella dai, no? Faccio pulire qua meglio Faccio pulire Sì 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 E fu così che si liberò La bestia di satana Nel corpo di Alessandra Mi prego non uccidermi 9 8 7 6 5 4 3 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 9 9 10 10 10 9 10 10 11 12 12 12 12 12 13 14 Bene ragazzi, chi vuole i miei nostri segni, ragazzi votate anche voi tutti i miei commenti se abbiamo fatto bene, se l'ha vinto oppure no, se uno sia in disegno dei brutti miei suoi, quindi niente, allora ci vediamo in un prossimo video, se mi ha piaciuto il mio canale iscrivetevi e ciao con Merlina per un peggio di nudo. Ciao, ciao, ti fa reaction? Eh, sì, reaction dopo, non do video, questo è un video da parte. Io non dico, ok, comunque, se vi è piaciuto mettete un piacere, commentate tutti i commenti, anche per sapere cosa avete pensato, se vi piacciono i vostri di più di ciao, ragione nuove, così ne faremo un po' sempre altro. Va bene raga, allora ci vediamo, un bacio, ciao a tutti, ciao, ciao. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti.